Rukoi ti annoia e stai cercando un metodo per gittare ma senza essere bannato su Rukoi Ragazzi sono veramente euforico ma quando fai 7 dollari in un mese fuori di testa Oggi vi illustrerò come bypassare il ban su Rukoi online In che senso bypassare voi direte? Allora ragazzi semplicemente usando una funzione di un account speciale Che tipo di account? Come faccio ad avere questo account? Semplicemente è l'account che abbiamo tutti quanti quando spawniamo Il no name ragazzi Il no name non può essere bannato Voi vi chiederete perché? Semplicemente perché magari voi state autocliccando Se magari voi avete autocliccato veramente State lì magari qualcuno vi reporta Vi hanno reportato, vi bannano Come vi bannano? Semplicemente arriva il GM Scrive il vostro nome Il vostro tempo che dovete stare là dentro E vi banna Ecco come funziona Ora con l'account no name voi non avete il nome Perciò questa cosa non può avvenire Per questo ho chiamato bypass Ma può sembrare un po' clickbait Però ascoltatemi ragazzi Adesso devo fare qualche views easy A parte scherzi Semplicemente adesso noi abbiamo il nostro autoclick Qui su Play Store Lo potete scaricare easy, free, gratis Rukoi prima di tutto non ha sistemi di livellamento per l'autoclick Quindi se voi state autocliccando Il Rukoi non ve lo rivela Però Se per caso apportate modifiche all'applicazione di Rukoi Hanno un sistema di rivelamento per quello Quindi non vi faranno accedere a Rukoi Tralasciando questo Adesso entriamo su Rukoi E andiamo a vedere come funziona Eccoci qui Ho impostato tutte le impostazioni Questo dovrebbe essere un botting vero e proprio Vediamo un po' come vediamo Ok Bene questo è il vero e proprio botting Quindi io ve l'ho illustrato Illustrato il metodo Bene ragazzi Io vi ho mostrato come fare Questo era il metodo per bypassare il banno su Rukoi Online Quindi il GM si va a fottere Come vedete sto autocliccando Questo è un vero e proprio botting ragazzi Se lo fate su un account normale potete essere bannati 100% Quindi adesso almeno che il GM non apporta modifiche al suo metodo di banning Non potete essere bannati usando questo account Spero ragazzi che il video vi sia stato utile Mi raccomando iscrivetevi e datemi un po' di views ragazzi Che a me servono le views su Rukoi Per questo video io vi lascio Addio ragazzi Ciao 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 Ciao